Giorno di riapertura e ritorno alla quasi normalità per molti reparti dell'ospedale di Padova, tra questi l'angiologia. Il suo primario è stato vicepresidente del Consiglio Comunale tra il 2009 e il 2014 e ricorda le principali regole di comportamento che i pazienti devono seguire per le prossime settimane. C'è necessità di essere curati però mi raccomando di seguire tutte quelle che sono le indicazioni, quindi di non venire accompagnati quando è possibile in ospedale, di venire da soli, di avere la distanza, di non venire due ore prima, di venire giusto all'appuntamento. Li abbiamo un po' diminuiti anche perché giustamente dobbiamo anche igienizzare gli ambulatori. Quanto ai medici le misure da seguire per loro non cambiano la tensione come sempre alta. Di certo è impossibile rispettare il metro di distanza ma l'attenzione e i protocolli dell'azienda ospedaliera sono comunque molto chiari. Non è che possiamo avere il metro di distanza, abbiamo i presidi che non è solo la mascherina chirurgica quando visitiamo, le persone si fermano, viene misurata la temperatura, c'è l'igienizzazione delle mani, poi tra un paziente e l'altro abbiamo la ariazione della stanza, la sanificazione dell'ambulatorio. Di certo i buoni risultati conseguiti finora nella lotta al covid-19 sono frutto di una buona collaborazione tra medici e direzione dell'azienda ospedaliera di Padova che ha sempre indicato chiaramente la strada da seguire. C'è stata una collaborazione enorme da parte di tutti, da parte della grande competenza della direzione e da parte dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, dei medici competenti. Per ciò che sta accadendo e sottolineando l'impegno e la passione dei medici c'è anche l'occasione per ricordare una rivendicazione fatta dai primari padovani. Perché percepiamo uno stipendio cosiddetto di carriera di posizione che è più basso in assoluto. Infine un appello a collaborare medici e cittadini fianco a fianco contro il covid-19. Molto dipende non solo da noi ma mi raccomando non bisogna vanificare gli sforzi fatti da tutti quanti, da tutti quanti, quindi noi facciamo il nostro lavoro però mi raccomando i cittadini facciano anche il loro.